Gli specializzandi ci stanno dando una mano assolutamente fondamentale per poter gestire i casi e i contatti che vengono tracciati dalla centrale operativa, ma che poi hanno bisogno di tanti altri adempimenti, dalle guarigioni per chi ha il tampone negativo e quindi il ripristino del Green Pass, agli spostamenti di domicilio, ai ricoveri, le dimissioni e poi ci aiutano nella gestione di tutti i casi scolastici, che sono molti in questo momento, nella gestione dei casi nelle RSA. I casi sono troppi, l'organico si è ridotto e quindi la presenza di questi ragazzi e di questi studenti per noi è diventata veramente importante. Soprattutto nei casi scolastici noi riscontriamo spesso e volentieri le lamentele dei genitori perché comunque il voucher fa fatica ad arrivare. Ovviamente ci sono dei ritardi perché il tracciamento è rallentato, per cui spesso veniamo a conoscenza di casi scolastici non nell'immediato, ma dopo qualche giorno, spesso ci vengono comunicati direttamente dalla scuola che collabora strettamente con noi, però sicuramente i casi sono ormai così tanti che non abbiamo più la forza di rispondere nell'immediato come potevamo fare qualche mese fa. Voi come vi trovate ad avere questa prima esperienza, essendo specializzante, in questa macchina così particolare, in questo momento anche così particolare? Ci stiamo un po' districando tra i decreti che sono sempre in aggiornamento quasi ogni giorno, però diciamo che cerchiamo di collaborare tra di noi continuamente, con tutti i vari collaboratori che sono qua. Più che altro è il problema della velocità con cui questi cambiano e soprattutto il problema grosso sono i numeri.